L'Aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Il testo emendato dopo un lungo dibattito è stato approvato con 23 voti favorevoli ed 11 astenzioni. La Regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente e che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei Comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50 mila alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione di utilizzare questi fondi. Quindi la cosa più importante che è quella di avere disponibilità di alloggi, troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci, quindi lotta furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in Commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla Giunta regionale introducendo come criterio premiale la storicità della residenza e quindi la legge che è uscita dalla Commissione prevede un punto per tre anni di residenza anziché zero, due punti anziché zero per cinque anni di residenza, tre punti anziché due per dieci anni di residenza a salire 15 anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto e in Commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla Commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in Commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente nel lavoro di Aula, in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare...